L'hai nominato due volte Emilio Fede, a me la cosa che fa effetto e che fa strano è averlo visto negli ultimi anni così in difficoltà. Allora, grande giornalista perché è stato quello che ha fatto scoppiare il caso della carne agli estrogeni. Io credo una cosa, che ognuno di noi, soprattutto in questo tipo di lavoro, abbia un ciclo, un inizio, uno svolgimento e una fine. E quello che conta non è quello che hai fatto durante la carriera, ma come esci di scena. Ecco, secondo me, lui che si è sempre vantato di essere un abile giocatore di carte, se è giocata male la partita, arriva un momento in cui uno deve uscire di scena e deve uscire di scena un attimo prima che sia troppo tardi. Prima che la telecamera si allontani da te, prima che la gente dica, ma questo non sarebbe mai da scatole. Oppure anche far vedere il tuo decadimento. Hai fatto la tua vita, ti sei tolto le tue soddisfazioni, grazie, arrivederci, è stato bello così. Serbate un buon ricordo di me.